Dammi 100 euro, sono disperato. Il rapinatore, sui 30 anni, incappucciato e con la mascherina, impugnava una pistola rivolta contro il titolare della gelateria di via 4 Novembre, in pieno centro, a Ceggia. È accaduto sabato scorso, verso le 19, quando lo stesso titolare ha poi chiesto l'intervento dei carabinieri della compagnia di San Donà, che hanno dato il via alle indagini. Da qui è emerso un altro particolare. Il titolare, il rapinato, ha raccontato ai militari che avrebbe dato anche molti più soldi al rapinatore, ma quest'ultimo gli avrebbe ribadito che erano sufficienti 100 euro e che il gesto era dettato dalla disperazione. Faccio questo lavoro da tanti anni, una vicenda del genere non mi era mai capitata, così Matteo il rapinato.